Benvenuti a questo spazio di approfondimento a cura della redazione di Delta TV. In questa puntata speciale parliamo di servizio civile. Cerchiamo di capire che cos'è il servizio civile, come funziona e come si può accedere. Per spiegare questo passaggio, quindi per spiegare che cos'è il servizio civile, abbiamo con noi il Presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, Enrico Maria Borrelli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Caro Presidente, cerchiamo di spiegare ai non addetti ai lavori che cos'è il servizio civile innanzitutto, che cos'è in Italia, soprattutto il servizio civile. Il servizio civile è il modo più semplice che abbiamo per rappresentarlo. È una scuola, è un istituto della nostra Repubblica dove i giovani hanno la possibilità di partecipare spontaneamente, quindi scegliendo anche il tipo di esperienza che vogliono vivere attraverso i progetti, hanno la possibilità di partecipare per un anno insieme ad enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, enti locali, università, strutture della sanità, hanno la possibilità di partecipare a progetti che sono di interesse generale, quindi a seconda dell'ambito che i giovani scelgono per interesse, quindi dall'ambiente alla protezione civile, all'assistenza sociale, all'educazione, al patrimonio storico-artistico, i giovani hanno la possibilità da un lato di fare un'esperienza di partecipazione molto importante, ecco perché il servizio civile è una scuola, ma dall'altra anche di scegliere non soltanto qualcosa che magari gli interessa, ma che può tornargli utile rispetto al percorso formativo o alle loro prospettive di lavoro, quindi scegliere magari un tipo di attività che aumenti le loro conoscenze, fortifichi le loro competenze, quindi è un'esperienza di empowerment a tutto tondo, dove da un lato si è cittadini attivi e si partecipa con lo Stato a migliorare le condizioni di vita del nostro paese, dall'altro però i giovani portano a casa qualcosa di molto utile per la loro formazione e anche per un futuro inserimento lavorativo perché crescono in un'esperienza strutturata che è molto simile a quella che troveranno in un contesto di lavoro. Presidente, chi può accedere al servizio civile? C'è un intervallo di tempo come servizio di leva? Per chi alla nostra età sa che cos'è il servizio di leva, i giovani, le nuove generazioni non sanno cosa sia. Il servizio civile, cerchiamo di semplificare, è quello che ha sostituito sostanzialmente il servizio di leva, il famoso anno militare che abbiamo fatto più o meno tutti. Quindi in che periodo si può fare il servizio civile? Quali anni? Possono partecipare certo al servizio civile tutti i giovani in età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ha fatto bene ricordare giustamente come nasce il servizio civile perché viene dall'esperienza della leva obbligatoria ed era aperto a giovani obiettori di coscienza, quindi chi come me all'epoca rifiutò l'uso delle armi servì la patria in un modo diverso che era per l'appunto con il servizio civile. È rimasto quindi l'ancoraggio anche a quella che era la fascia di età tendenzialmente di riferimento della leva obbligatoria per appunto i giovani dal compimento della maggiorità dai 18 anni fino ai 28 anni, il che vuol dire fino a 28 anni e 364 giorni. Possono partecipare tutti i giovani, non soltanto quelli italiani ma anche i cittadini europei. Oramai il servizio civile è una politica chiaramente moderna, quindi aperta anche in termini di cittadinanza, la possibilità che vengano partecipino giovani da altri paesi se non anche giovani stranieri residenti regolarmente residenti in Italia. Non ci sono altri requisiti di accesso perché il servizio civile è un'esperienza che vuole accogliere i giovani e accompagnarli in un'esperienza di crescita e di formazione, quindi significa che al netto dell'età della cittadinanza italiana o europea e di una disponibilità che i ragazzi danno a partecipare a queste attività, per il resto la selezione che viene fatta tra i tanti candidati che riceviamo ogni anno in servizio civile riguarda esclusivamente l'idoneità di questi ragazzi a svolgere quel tipo di progetto per il quale si candidano. Quindi è aperto a tutti e anzi l'invito che noi facciamo sempre i giovani e venite a vivere questa esperienza perché la quasi totalità, possiamo parlare di quasi oltre il 90% dei giovani che hanno fatto servizio civile non soltanto lo rifarebbero ma lo hanno consigliato ai loro amici. Quindi vuol dire che è un'esperienza che vissuta dai giovani è risultata utile, interessante e in qualche modo anche arricchente. Possiamo dire, facciamo un esempio Presidente, io ho 18 anni e voglio entrare nel servizio civile. Qual è l'iter burocratico che devo fare, che devo seguire? Questo chiaramente serve molto ai giovani sapere come funziona, il servizio civile è dicevamo prima un istituto della Repubblica e soprattutto lo Stato, questa cosa è anche importante, mette a disposizione dei giovani che lo fanno un incentivo economico perché i ragazzi percepiscono 507 euro al mese per i 12 mesi di partecipazione, quindi è chiaro che è un concorso pubblico al quale i ragazzi partecipano senza skill particolari, dicevamo prima, basta il requisito dell'età e della cittadinanza, ma hanno comunque questo percorso concorsuale, quindi ogni anno il Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale emana questo bando ordinario, quello del 2021-22, l'ultimo anno è stato per oltre 71 mila giovani, quindi un'infinità di opportunità in tutta Italia e anche all'estero, i ragazzi quando esce il bando hanno la possibilità di precompilare il format di domanda perché ovviamente è un format già pronto e attraverso lo speed, questa è l'identità digitale, il servizio civile aiuta anche i giovani in un qualche modo a dotarsi di questa identità digitale che poi gli tornerà utile sia per la vita adulta che anche per quella lavorativa e si candidano, dopodiché vengono convocati a colloquio di selezione e chiaramente ogni organizzazione, che siano gli enti del terzo settore, che siano gli enti pubblici, valutano tra le tante candidature quelle dei giovani che sono in un qualche modo più idonei, anche più motivati, più capaci di partecipare a quel tipo di progetto e quindi di contribuire ad un'attività di interesse generale. Si può scegliere dove poter fare il servizio civile? Assolutamente sì, i ragazzi hanno assoluta libertà di scelta perché possono chiaramente individuare il progetto che gli interessa, talvolta per prossimità molti ragazzi tendono a farlo comunque vicino a casa, per dirla con semplicità, vicino a casa o magari vicino ai luci dove studiano, vicino all'università, perché sono comunque giovani in un'età tendenzialmente di formazione, sappiamo che la stragrande maggioranza dei giovani è chiaramente a diploma di scuola media superiore, molti di loro sono all'università quindi vuol dire che stanno ancora costruendo un loro percorso di vita, ergo fare un'esperienza come quella del servizio civile deve necessariamente rispettare anche l'esigenza di renderla compatibile con i loro impegni di vita, di studio, di formazione, per cui i giovani molto spesso lo scelgono vicino a casa, questo può limitare se vogliamo la varietà delle scelte, ma in realtà ci sono ragazzi che scelgono in maniera molto mirata il tipo di esperienza che vogliono vivere, pensiamo a quelli che studiano, non so, conservazione dei beni culturali, chiaramente vanno a scegliere un progetto adeguato perché per loro quell'anno di servizio civile è anche un'esperienza di tirocinio, quindi di approfondimento di quel mondo, se vogliamo anche di messa alla prova delle loro conoscenze, di ciò che studiano, possono sceglierlo nella loro regione, possono andare fuori regione e possono addirittura decidere di vivere anche un'esperienza all'estero perché moltissimi sono i progetti di servizio civile che si svolgono all'estero, questo ovviamente arricchisce anche la formazione dei giovani da un punto di vista linguistico, dell'autonomia perché vivere fuori casa un po' come l'Erasmus fortifica i ragazzi e li fa uscire un po' dalla loro comfort zone, quindi esperienze molto utili anche da un punto di vista di vita, quindi i giovani possono sì assolutamente scegliere il tipo di esperienza che desiderano. Presidente, a che punto è il servizio civile oggi in Italia? Beh il servizio civile sta crescendo, bisogna dire che da quando nel 2001 con la sospensione della leva obbligatoria si lanciò questa scommessa, questa sfida perché il servizio civile nel momento in cui si diciamo regolò attraverso la legge come un'esperienza all'accesso volontario, non avevamo più i giovani obbligati a farlo. In realtà il dubbio che potesse essere o meno attrattivo per i ragazzi c'era e in realtà il servizio civile da allora ha dimostrato di essere particolarmente attraente per i giovani, proprio per tutti i motivi che ci dicevamo e di conseguenza è diventato attraente, nel senso di essere stato attenzionato negli anni dalla politica, dai diversi governi, come strumento per intervenire in diverse, su diverse politiche. Innanzitutto coinvolgendo i giovani nella vita pubblica, quindi possiamo dire che il servizio civile assume in maniera sempre più rapida un ruolo strutturale nella nostra società e anche culturale. I ragazzi sanno che esiste questa esperienza di passaggio, dicevamo prima un po' come l'Erasmus, no? Chi studia all'università sa che una delle opportunità che i giovani hanno è per appunto l'Erasmus, magari il tirocino all'estero, tanti altri oggi vedono nel servizio civile questa opportunità e la politica lo ha chiamato in causa per tante occasioni, quindi a che punto è il servizio civile in un momento di maturità? Perché lo Stato oggi lo coinvolge per attuare politiche di PNRR, in particolare sulla transizione digitale e su quella ambientale, lo utilizza per favorire l'attivazione dei giovani, pensiamo al problema dei NIT, no? Quanti ragazzi in qualche modo lo Stato ha bisogno di recuperare da un punto di vista della motivazione e il servizio civile si è dimostrato essere un potente strumento di riattivazione dei giovani, pensi che tutti quelli che hanno partecipato al servizio civile in garanzia giovani, quindi una delle prime misure per l'attivazione dei NIT, ha dimostrato che il novanta per cento dei giovani al termine del servizio civile non era più NIT, quindi diciamo una percentuale altissima di giovani ha riconosciuto in questo tipo di esperienza qualcosa di stimolante e da questo poi chiaramente hanno proseguito alcuni riprendendo magari percorsi di studio, altri entrando nel mondo del lavoro, quindi quanto è positivo questa esperienza sulla formazione della persona, perché noi non formiamo professionisti attenti, non siamo una scuola di formazione, siamo una scuola di, dovremmo dire, una volta si usava dire in questo modo un po' una scuola di vita, è uno stare insieme, uno stare traduti, uno assumersi di responsabilità e un sentirsi in un qualche modo anche utili, l'idea di servizio civile è fortificata proprio dal termine servizio, ognuno di noi nel servire si sente utile perché serve a qualcuno, serve a qualcosa, questo gratifica la persona e nei giovani di oggi pensiamo a quanto malessere sentiamo raccontare dalle nuove generazioni, l'isolamento, la voce non ascoltata delle nuove generazioni, beh il servizio civile offre esattamente questa opportunità, i ragazzi l'apprezzano e noi riconsegniamo alla società giovani più forti, più adulti. Il trend di crescita del servizio civile è la tipologia, perché ci sarà sicuramente una tipologia di ragazzi più propensa a seguire, a partecipare al servizio civile, perché immagino i ragazzi oggi bombardati da una serie di cose si perdono facilmente nei meandri diciamo delle varie reti. È vero, è vero, il servizio civile gode di una platea diciamo molto eterogenea, proprio perché le motivazioni di un giovane per fare servizio civile sono tantissime, quindi troviamo ragazzi magari un po' più strutturati, con un'istruzione più alta, prendiamo gli universitari che rappresentano nel servizio civile oltre il 24% delle candidature, quindi giovani già laureati con un percorso di formazione, di alta formazione conseguito, ci immaginiamo che siano immediatamente proiettati verso il mondo del lavoro, la ricerca di lavoro, invece li troviamo tanto spesso anche attraversare l'esperienza di servizio civile, quindi vuol dire che anche rispetto a giovani più profilati il servizio civile ha una sua attrattività. La stragrande maggioranza dei giovani invece, dicevamo prima, oltre il 60%, quasi il 65%, sono giovani che hanno il diploma di scuola media superiore, il che vuol dire gran parte di loro ancora inseriti in percorsi di formazione, spesso universitaria, e che vedono nel servizio civile comunque una delle esperienze, diciamo, complementari al loro percorso di formazione, quindi così come studiano da un'altra parte, non si dice studia, si manca e lavora, cioè fai qualcosa di un po' più pratico, diciamo, che ti faccia comprendere la differenza ovviamente tra un portato di conoscenze utili e l'esigenza di trasformare queste conoscenze in competenze, perché il mondo del lavoro poi richiede questo, non tanto ciò che sappiamo, ma ciò che sappiamo fare. Quindi il giovane utilizza il servizio civile anche un po' per sperimentare e sperimentarsi in un contesto più operativo, produttivo. Abbiamo anche giovani in realtà meno scolarizzati, sono una minoranza, però quelli sono giovani invece per l'appunto che vedono nel servizio civile un'opportunità, un'opportunità di fare qualcosa di più strutturato, un'opportunità di costruire comunque relazioni utili, perché il capitale sociale è uno dei capitali, è uno degli strumenti, delle leve fondamentali anche nella crescita di una persona. Ognuno di noi ha potuto in qualche modo costruire il proprio percorso di vita anche grazie alle relazioni. Il servizio civile ti connette con la tua comunità, con un mondo adulto, con sistemi è vero, molto spesso no profit, ma si ha a che fare anche per tantissimi motivi e in tante occasioni anche con il mondo vero e proprio del lavoro. Ci sono contaminazioni, spesso ci sono società che offrono strumenti, risorse al servizio civile perché partecipano con noi per realizzare progetti interessi generali. I giovani si interconnettono con tutto questo mondo, quindi è se vogliamo una terrazza molto ampia che li affaccia verso l'orizzonte della vita adulta. Quindi la pratea è eterogenea. Certo, dico solo, quelli più schillati, magari quelli che cercano università private per un orientamento più spedito verso il mondo del lavoro, quelli che fanno stagio in multinazionale o all'estero, è ovvio che quella è una categoria di giovani in qualche modo probabilmente anche più fortunata, quindi con qualche strumento in più che gli deriva dalla famiglia, che gli consente di fare scelte tra le varie opportunità che le diceva prima, i giovani sono bombardati, magari fanno scelte diverse, quella del servizio civile è una scelta più pubblica, più se vogliamo anche popolare, meno specializzata, ma è un'identità a cui noi teniamo molto perché crediamo che sia, che rappresenti proprio per l'eterogeneità dei soggetti che ci sono dentro, rappresenti la realtà del nostro paese, delle nostre comunità. Quindi un giovane che fa servizio civile è vero, non va verso un percorso altamente specializzato, ma in un qualche modo mette realmente un piede nella società e nella comunità in cui lui vive. Presidente, dopo vent'anni di servizio civile è arrivato il momento della riforma. Cosa prevede questa riforma? La riforma è recente. E se poi, se mi permette la battuta, e se poi effettivamente è una riforma? Beh, allora quella del 2017 che è la riforma recente perché è una legge che appena sei anni si definisce ancora da un punto di vista giuridico nuova, quindi è una legge che ancora stiamo sperimentando. Una legge che è nata perché il servizio civile, proprio per ritornare al tema della salute del servizio civile, in che condizioni versa, è versa in condizioni di crescita, oggi non direi che è verso una piena maturità, ma sicuramente ha superato l'adolescenza. Quindi la riforma serviva a dare al servizio civile anche una prospettiva un po' diversa, politicamente diversa, perché se ad oggi, dicevamo prima, i giovani devono fare una selezione, quindi è un'opportunità pubblica che lo Stato mette a disposizione di tutti i giovani, ma in realtà non è aperta a tutti, perché abbiamo risorse in un qualche modo limitate. Quindi abbiamo detto l'anno scorso nel 2022 71 mila opportunità, ma le domande sono state quasi 110 mila. Quindi c'è un 40% di giovani che in qualche modo vorrebbe, aspira a fare un'esperienza come quella del servizio civile, ma non abbiamo risorse disponibili. Ecco che la riforma nel definire il servizio civile universale porta con sé in un qualche modo un'aspirazione politica molto importante, ambiziosa, che è quella di renderlo un'esperienza universalmente accessibile a tutti i giovani che desiderano di farlo. Quindi innanzitutto questo è stato uno dei principi che ha ispirato la riforma. E poi ovviamente abbiamo dovuto fare anche una cosa molto importante, perché questi giovani che partecipavano al servizio civile in realtà non erano né volontari né lavoratori dipendenti, quindi alla domanda chi è il giovane che fa servizio civile, come lo inquadriamo nel nostro ordinamento giuridico, nel suo ruolo e nel suo rapporto con lo Stato, contributivamente, fiscalmente, questi soldi che il giovane percepisce come vengono assegnati ad uno piuttosto che a un altro. E quindi questa riforma ha anche introdotto la figura giuridica dell'operatore volontario in servizio civile, che oggi è una delle tante figure giuridiche che abbiamo in Italia. Quindi al pari di come c'è il volontario, ci sono i lavoratori, ci sono tante altre categorie, c'è anche quella dell'operatore volontario in servizio civile. Queste sono, diciamo, sono piccole, se vogliamo, ma piccole novità che ha introdotto la riforma, ma sostanziali perché rappresentano le fondamenta di questo istituto. Cioè, definita la natura giuridica del giovane, definita anche la la prospettiva politica di un istituto che vuole interessare tutte le nuove generazioni, possiamo in qualche modo evolverlo. Oggi siamo, dicevo, a questa fase post-adolescenziale, in cui il governo chiama il servizio civile ad intervenire anche in situazioni emergenziali come quella del covid, dobbiamo probabilmente interrogarci su come immaginiamo di dare una solidità a questa scuola italiana di cittadinanza, perché ad oggi abbiamo sicuramente un investimento dello Stato che sostiene per l'appunto il rimorso mensile dei giovani, ma rimetto veramente anche alle considerazioni della politica del Parlamento il tema di una sostenibilità di un intero sistema che ad oggi si nutre della volontarietà, della spontaneità degli enti che accolgono i giovani, ma è chiaro che voglio dire la politica non può fondarsi sul volontariato, le politiche del nostro paese non possono fondarsi sul volontariato, dovremmo avere delle strutture un po' più solide, così come diciamo la scuola, gli insegnanti, le strutture, i percorsi didattici, quindi qualcosa, una politica più largamente sostenuta dallo Stato perché diventi una politica solida e offre ai giovani un'esperienza qualificata con strutture in un qualche modo anche qualificate, più qualificate e meglio qualificate ad accompagnarli. Questo è uno dei temi che sicuramente dovremo affrontare. Ecco Presidente, in conclusione vogliamo dare un consiglio, una parola a chi volesse intraprendere questo percorso? Sì, sicuramente l'invito che facciamo oggi ai giovani con il servizio civile, grazie anche per avermelo chiesto perché ci abbiamo ragionato tanto. In realtà quello che è un'esperienza, che invitiamo a fare ai giovani è a prendersi un anno di tempo per loro. Il servizio civile gli consente questo, una volta si chiamava l'anno sabbatico, oggi i ragazzi entrano piccoli a fare esperienze di servizio civile perché tendenzialmente hanno 22-23 anni quindi sono ragazzi che ancora si orientano verso la vita adulta, il servizio civile li aiuta a prendersi un anno per loro, a guardarsi attorno, a mettersi un po' alla prova, a scoprire se quello che fanno gli interessa realmente o se magari invece scoprono interessi nuovi, quindi è un anno molto utile al loro orientamento. Quindi l'invito che facciamo ai giovani è non spaventatevi di partecipare perché il servizio civile è aperto e inclusivo e aspetta tutti quanti e aspetta tutti voi. Prendetevi un anno di tempo, dedicatelo a voi stessi, fate un'esperienza anche di socialità e vi arricchirà e vi sarà sicuramente molto utile quando avrete finito. Lo dicono i vostri coetanei, tutti i giovani, oltre un milione di giovani che lo hanno vissuto hanno raccontato di questa positività. Quindi l'invito ai giovani è esattamente questo. Bene, grazie Presidente per il suo contributo, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.